Si può passare? No. No? Non si può andare in città? No. No, è un signore che sembra che andò venuto 20 minuti fa e ha chiesto se si può passare anche. Però avevano anche detto che avevano quasi finito tutto quanto, quindi mette le abbracce. E' stato tutto il giro che è?